Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Penso che abbiate già inteso, anche e soprattutto dal titolo del video, quello che ho qui davanti perché ragazzi, se vi ricordate, in una delle ultime live, spero di pubblicarlo quanto prima a sto video ma farò il possibile per incastrarlo appunto in tutti i video che devono uscire, vi avevo parlato che c'era una sorpresa disumana, qualcosa che per la prima volta da quando sono su YouTube volevo portare sul canale ed una cosa che mi riempie veramente di un orgoglio, roba disumana. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Vi presento la Anycubic Photon, che è il modello intermediario fra un modello più basico rispetto a questo che è la Anycubic Zero, Photon Zero, e la Photon S che invece è il modello direttamente successivo. Diciamo che questo qui è il modello che si trova al centro, fra il modello principale e quello sicuramente più avanzato. Si parla di stampanti a resina, quindi non è una stampante FDM ma è una stampante puramente a resina, quindi non a filamento. Colgo l'occasione per ringraziare di cuore la Anycubic perché ci hanno sponsorizzato tutti questi progetti, vi dico la verità, non ci credo ancora e non me lo sarei mai aspettato, ve l'avevo detto anche in live. Ci hanno sponsorizzato non solo l'Anycubic, la Photon che vedete qui davanti, ma anche la Wash & Cure Machine che vi facciamo vedere a breve, che è praticamente una macchina che serve per il passaggio successivo alla stampa in 3D. Alla cura delle miniature e al lavaggio, più che altro la fase principale è il lavaggio per lavare tutte quante le imperfezioni che possono venire fuori, soprattutto da una stampa a resina che ricordo essere anche roba tossica. Quindi comunque te la va a lavare, te la va a ripulire e poi soprattutto te la va a rafforzare e rinforzare perché ha bisogno di raggi ultravioletti. La resina con i raggi ultravioletti si va ad indurire. Quando tirate fuori una miniatura in FDM o qualcosa di stampato è già bello duro, un mattone lo tirate nel muro. Quando l'andate a stampare in resina, per quanto il dettaglio sarà comunque più alto rispetto a un FDM a filamento, dovrete stare attenti perché comunque sarà un pochino molle tolti i supporti, tanto da poi vi si fa vedere nei vari passaggi. E sicché dovrete andare a mettere dentro la Wash & Cure per lavarla e rafforzarla appunto con i raggi ultravioletti. In più alla Photon, alla Wash & Cure che ora vi mostriamo, ci hanno mandato anche due flaconcini da 500 millilitri, quindi un litro di resina. Ragazzi, fate conto la stampa che si è fatta ora, ci ha preso tipo 8-9 millilitri, per farvi capire, ci hanno mandato un litro quindi c'è da stampare veramente la paura. E qua davanti vedete che c'è già una miniatura pronta, un modello che ci ha preso sulle 4 ore e mezzo di lavoro, perché i tempi bene o male sono quelli lì, che il tempo che ti prende una stampa in 3D, soprattutto con la resina, non è tanto quanto è grosso l'oggetto. Ovvio, anche quello va a influire, un pezzo grosso così ci vuole più tempo a stampare un pezzo più piccolo, ma non crediate che sia tutto così facile, perché magari un pezzo grande richiede lo stesso tempo di un pezzo che è un terzo della misura, però c'ha molti più dettagli. E questa miniatura che se vi andate a stampare ci aveva, non è grandissima, dimensioni Space Marine, è tipo uno Space Marine un po' preso da Thingiverse, un po' riadattato, e ci ho preso 4 ore e mezzo appunto perché è ricca di dettaglio. Ora, poi la macchina, intanto vi faccio una presentazione, poi ve la faremo vedere per bene, vedete davanti c'ha un display che è a touchscreen, ha una sua chiavettina che arriva in dotazione con 4GB da hard disk, una sua chiavettina dove voi, vi farò vedere anche il programmino ufficiale e il programmino quello un pochino più avanzato, dove voi lavorate sul vostro progetto in 3D, li mettete la scala, X, Y, Z, le distanze, l'altezza, la larghezza e cose varie, e poi dopo caricate direttamente sulla chiavetta, andate a inserire la chiavetta, vedete c'è il pulsante dell'accensione sul lato, e date il via direttamente alla stampa, che ora vi faccio vedere poi passaggio per passaggio da vicino, e al momento che parte la stampa siete pronti a lasciarla lì per 3-4 ore, tutto il tempo che ci vorrà, tanto vi verrà sempre detto davanti, e dovrete appunto attendere che si avrete la stampa. Io ringrazio immensamente di cuore la Anycubic per averci fornito la Photon, la Wash & Cure Machine e un litro di resina più mascherine, ovviamente filtro per versare la resina e tutto quanto, completamente a gratis, sponsorizzato, facendoci da sponsor al canale, quindi grazie, veramente è un onore disumano. Vi faccio vedere un pochino come funziona, ma prima vi voglio far vedere come è uscita la stampa. Svitate il piatto, come vedete, il piatto di stampa, a cui è attaccata la nostra miniatura, e lo tirate fuori tutto insieme. Ed ecco lì la miniatura ovviamente lavorata a capovolta con tutti quanti i supporti. Occhio perché ora bisogna andare a lavare con la Wash & Cure Machine, darci una bella pulita per levare tutti quanti i pezzi superflui, e soprattutto ripulire un po' la miniatura. Quindi lavaggio e rafforzativo. Poi prendete la spatolina, quella in plastica, la passate accanto alla base e andate a staccare la miniatura. Miniatura che verrà via con tutti i supporti ancora attaccati. Ora dovete lavare, fare un passaggio di lavaggio e cure, sia della miniatura che anche del, qui intanto ricopriamo il coperchio, sia della miniatura che anche del piatto di lavoro. Deve essere tutto quanto sanificato e non ci devono essere schizzi o imperfezioni sopra di resina, perché sennò la prossima stampa potrebbe non attaccare. Quindi prima di tutto andiamo a lavare e rafforzare la miniatura e poi faremo il piatto. Prendete il cestello, che sembra quello delle patatine fritte a Luna Park, e lo immergete dentro la Wash & Cure Machine. Noi ci abbiamo messo una soluzione di alcol bianco, alcol isopropilico, comunque lo trovate in tutti i negozi, voi andate a chiedere l'alcol bianco. Ce l'abbiamo messo una bottiglia intera, in più abbiamo allungato con un po' di acqua. Prima c'è la modalità, vedete qui a sinistra Wash & Cure. Prima fate un bel passaggio di Wash, al momento che ha fatto il passaggio di Wash, se non siete contenti ne fate un altro, se no passate direttamente alla modalità Cure. A destra invece c'è il tempo, la quantità di tempo, 2, 4 e 6 minuti. Il primo passaggio di lavaggio fatela a 6 minuti. Poi se vedete che non è abbastanza, però potrebbe cosa andare bene, e ne fate un altro da 2 minuti, quindi comunque il processo di lavaggio è veramente veloce. Iniziamo. Adesso è su Wash, si preme il tasto, ricordatevi che deve essere chiusa, e sentite fa anche un pochino di rumore. Inizia a girare la ventola, e vedete si forma una specie di vortice interno. Ovviamente la miniatura all'interno viene girata completamente, e questo qui è il primo passaggio di lavaggio. Noi l'abbiamo impostato, ora ovviamente si velocizza per non farvi vedere tutto, l'abbiamo impostato a 6 minuti. Questo passaggio serve direttamente per ripulire la vostra miniatura in resina, da tutte quante le impurità, e soprattutto allevargli anche un pochino di residuo tossico, insomma, che non fa mai male, ecco, starci a distanza. Ricordatevi anche questo passaggio, maschera e guanti. In questo passaggio si va a togliere il coperchio, noi abbiamo fatto 6 minuti più 2, perché abbiamo visto che era un pochino ancora sporchina di resina, quindi abbiamo dato un'ulteriore pulizia. Si va a togliere il coperchio, si toglie il cestello da dentro, l'avrebbe pulita ragazzi, poi con l'alcol bianco l'ha pulita tutta quanta, quindi non ci dovrebbe essere residui e cose tossiche, comunque voi, sempre come vi ho detto, come vedete mia moglie, che è lì, io sto parlando ma le braccia sono le sue, per quanto sono bianche come le mie, sta lavorando con i guanti. Quindi sempre quello sempre fate attenzione. Ci si va a dare una pulita, un attimino un'asciugata comunque alla miniatura, lì si va a dare nelle parti dove è ancora un pochino più bagnata, e al momento che è stata asciugata si va a togliere anche tutto quanto il secchiello, questo qui, il cestello io vi consiglio di lasciarcelo dentro, lo potete anche levare, asciugare e metterci il tappino, perché comunque la soluzione che c'è dentro non la dovete stare a buttare ogni volta. Ora magari dopo 7, 8, 10 lavaggi cambiateli direttamente, però non è che ogni volta dovete andare a ricomplare l'arcol isopropilico. Mettiamo il piatto di vetro, lì centrale, occhio, ovviamente non farci forza né niente, e mettiamo la miniatura, lavate tutto quanto centrale. Prendete sempre il coperchio, ovviamente quella è la prima cosa, non l'avviate senza coperchio perché si parla di raggi ultravioletti, ragazzi fanno anche male agli occhi, particolarmente male. Quindi rimettete il coperchio, miniatura al centro, e li facciamo anche qui fare un giro da 6 minuti. Mettiamo anche qui partenza 6 minuti, non dovessero bastare, mettiamo magari un altro paio di minuti. Adesso la macchina parte, vedete dietro la lente ai raggi ultravioletti che va a riscaldare la miniatura, e questo serve proprio per rinforzarla. Quindi la resina, lo sapete, trattando giochi da tavolo, la resina ha, soprattutto sulle miniature più piccole, ma anche su quelle più grandi, a differenza della plastica e dell'FDM, una maggior quantità di dettagli. Però la resina, fondamentalmente appena uscita da una stampa, è ancora un po' troppo molle, è ancora un po' troppo gommosa, è ancora un po' troppo fragile. Questa macchina non solo ve la lava, quindi vi leva anche lo sbattimento di andarla a lavare manualmente dentro un secchio. Quindi, detto proprio sinceramente, se dovete andare, magari aspettate di trovare l'offerta, ma se dovete comprare qualcosa dall'Anycubic, soprattutto la Photon, prendetela insieme, perché vi leva tanto di quel lavoro che non avete idea, ma più che il lavaggio, che il lavaggio è la parte forse più veloce, questa parte qui della cura, che va a rafforzare la miniatura, diventa dura come il ferro. Non è più la classica miniatura di resina, di Alien Contro Predator, per farvi capire della Prodos, che come vi casca in terra, si spezza in mille parti. Assolutamente no. Fine. Abbiamo fatto anche un secondo passaggio di due minuti, perché il bastone là, quella in cima, ci sembrava leggermente ancora un po' troppo morbida. Ed ecco la nostra miniatura finita. è una specie di cappellano degli Space Marine, qualcosa del genere, con un teschio come elmo, e vedete c'ha un bastone con l'aquila, che ricorda un po' quella appunto degli Astartes, e dietro ha un jetpack. Poi ovviamente ve lo faremo vedere anche leggermente più da vicino, e ragazzi, ha mantenuto perfettamente i dettagli. Lavata la miniatura, passo successivo, lavate il piatto di stampa. Ci agganciate il supporto di ferro, l'avvitate, e ci mettete fissato il piatto di stampa. Girate, vedete la rotella, in senso anti-orario, l'abbassate sotto, affinché sia abbastanza a bagno, e anche qui gli fate fare un giro di sei minuti. Sei minuti, e si passa a fare un giro di lavaggio anche di questa. Il procedimento è la stessa come per la miniatura. Se pensate che non basti, gli fate fare un altro giro di un paio di minuti, e siete a posto. Avete lavato miniatura e piatto di stampa. Ovviamente per il piatto di stampa non c'è bisogno di fare il passaggio della cura con i raggi ultravioletti. Lavate e basta. Allora, non abbiamo fatto il video dell'unboxing, perché c'è stato un piccolo problema. Il Corriere praticamente ha messo sotto sopra la scatola, e col rischio di rovesciare questa qui, abbiamo detto no, scartiamola subito, installiamola, perché ho paura che questa si rovescia. Perché tempo fa ho visto il video di questo ragazzo, che gli era colata tutto da, praticamente qua sopra, qui sotto, gli ha colato tutta la resina, intaccando anche le LCD, e quindi l'ha rovinato completamente. Allora, per installarla è stata piuttosto semplice, anche se mi sono fatta aiutare da Andrew Play, che infatti lo ringrazio, perché... Ringraziamolo infatti. Infatti la prima stampa che ho fatto era una FIFA, che uscisse uno schifo, ma soprattutto anche di rovinare la macchina. diciamo che le istruzioni sono piuttosto esaustive, spiega tutto, ci sono delle immagini abbastanza nitide, e ti spiega tutto passo per passo, con tanto anche di programma, come usarlo, anche in caso di problemi, c'è anche il supporto, che addirittura, se non sbaglio, ti danno anche un anno di garanzia. Qui ti dice di montare addirittura il piattino, perché è normale, è la prima cosa che devi fare, e poi di mettere il classico foglio di carta. Io ho stretto molto questa, che è la manopola, è normale, se non la stringi poi il piatto, rischia di cadere sopra, e bisogna fare in tutte le maniere di non graffiare lo schermo sotto, dove c'è la lampada UV, e soprattutto il piatto, e di non intaccare il FEP del vassoio, perché se no bisogna ricambiarlo. Cosa si è gradita, ne hanno messi tre di FEP da cambiare, non bisogna cambiarlo questo, perché io ero convinta, perché qui c'era scritto, mi sono fatta ingannare, e c'era scritto, prima di usarla, cambiarlo. Invece è già operativa quello, quindi non la toccate, non la cambiate, già va bene tutto così, è già pronta a stampare questa. Ho seguito tutto quanto alla lettera, è una stupidaggine, basta andare prima su tools, quindi vado su tools, poi vado su move z, e poi faccio home. Cosa vuol dire? Ovviamente bisogna mettere il foglio di carta sotto, il piatto scende fino a qui, dove c'è il foglio di carta, fate conto che qui c'è il foglio di carta, e fa diversi suoni, far presente che sotto, di non andare ad intaccare sotto lo schermo, dove c'è poi la lampada UV sotto, ok? Mi raccomando di non premere troppo sotto qui, per non far scendere troppo sotto il piatto, si sa mai che poi rovina lo schermo sotto, la parte dove c'è il vetro, rovina quella, ciao stampante. Una volta premuto home, io direi di mettere su 0.1 mm, 0.1 mm, e di scenererlo piano a tocchetti, non fate così come dei pazzi o sennati, se no, a parte la rincoglionisce la macchina, ma c'è il rischio, come ho detto prima, di rovinare il vetro sotto. Una volta che, ovviamente, ci sono tutti i tools dentro, tutti quanti gli strumenti indicati, bisogna prendere una di queste manopoline qua, che vedete, quando sentite che il foglio fa leggermente resistenza, ma non che sia fermo del tutto, ma leggermente resistenza, si va a mettere piano piano le mani, come fa in questa foto, le mani così, si appoggia piano piano, non troppo a forza, ma piano piano, e si va a stringere più forte che potete questa vite, in caso usate poi questo strumento, dall'altra parte, da questa parte qui, per andarla a stringere, in modo tale che il piatto è bello fermo, e durante la stampa, non c'è il rischio che sballotti, se poi il piatto fa in queste condizioni qua, ciao stampa, bisogna rifare tutto da capo. Poi un'altra cosa, che mi ha detto pure Andrew Play, che infatti c'ha ragione, di non mettere le mani, di non andare a toccare il FEP sotto il vassoietto, e non mettere le mani, nello schermo lì, di vetro, bisogna fare in tutte le maniere, che tutta questa zona, sia priva di polvere, così non va a intaccare comunque la stampa, e che la macchina non si rincoglionisca. Come vedete ora, l'immagine di sfondo, che l'abbiamo registrato direttamente al computer, abbiamo usato il programmino, ce ne sono molti altri, però abbiamo usato direttamente il programma, dato in dotazione dalla Anycubic, quello che dovete usare appunto con la Photon. In questo programma, vedete, vi dà direttamente il piano su cui andate a lavorare, il piatto su cui andrete a lavorare, e voi qua sopra dovete metterci la figura. La stampa che ci andate a posizionare, se va a toccare ed uscire dai bordi, inizia a essere illuminata di una luce rossa. È il programma che vi fa capire se la stampa va oltre, va fuori. Poi ovviamente la potete ridimensionare voi sulle tre dimensioni, gli potete andare direttamente a ritoccare le tre misure, e la potete anche rimpicciolire o ingrandire. Per darvi proprio un consiglio, se dovete stamparvi più di una stessa miniatura, o più miniature, le potete fare anche tutte insieme, perché il tempo di stampa è lo stesso. Se per fare una miniatura ce mettete due ore, non è che per farne quattro ce ne mettete otto, per farne quattro ce ne mettete lavorando, sempre sullo stesso piano, ce ne metterete sempre due soltanto. Ovviamente andrete sicuramente a consumare più resina, ma si va a parlare di millilitri, quindi è poca roba. Ce ne potete fare centinaia veramente di miniature, con anche soltanto un litro, usandola bene. Quindi dovete andare a settare il programma, per vedere come riempirla, in che percentuale, perché se volete miniature più riempite, o meno riempite, anche per andare a consumare, avere un minor dispendio di resina appunto. Quando il progetto è pronto, alla fine dovete fare l'autosupport, che ci metterà direttamente tutti quanti i supporti per la stampa, per il robustire, soprattutto sulle parti un pochino più esili. Se non ti piace, come lo fa il programma in automatico, lo puoi fare anche manuale. E poi vai con lo slice, che finalizza tutto quanto, e ti andrà anche a dire esattamente il tempo di stampa, calcolato ovviamente in ore. Prendete, passate sulla chiavetta USB, e andate su direttamente a metterla nella stampante. E questo qui, ragazzi, è il lavoro finito. Cioè, guardate là, poi ovviamente, occhio, a breve ve la faremo vedere anche dipinta, in un altro video, montata, col primer e tutto quanto, perché anche senza il primer, va un pochino a perdere di dettagli, con la resina verde. Ma guardate lì, guardate il livello di dettaglio, è mostruoso. iscriviti al nostro canale, Ragazzi in conclusione è un pezzo da 100 Ha una qualità di stampa disumana Inizialmente questa stampante in 3D a resina La Photon che ve l'ho detto è il modello intermedio Andava sui circa 300 euro Ed ora l'hanno scalata verso i 230, i 250 Una cosa del genere Comunque link in sovrimpressione Primo link in descrizione Andate direttamente sul sito dell'Anycubic Perché vedete tutti quanti i prezzi E poi c'è il modello anche precedente a questo Che dovrebbe venire intorno ai 150 E il modello successivo che si va sui 350 Qualcosa del genere che è la Photon S Che spero anche di riuscirla a provare un giorno Comunque ragazzi è un gioiello L'avete vista voi la miniatura Quindi giudicate voi Non vi sto a dire non c'è trucco, non c'è inganno Giudicate direttamente voi E sia chiaro che questa è una stampante a resina Non è una stampante a filamento Quindi se devo dargli un voto complessivo A quello che gli ho visto fare per ora Intanto non fa puzzo Fa leggermente odore Però sembrava un po' peggio inizialmente Fa leggermente l'odore dell'aspirapolvere Quando c'è il filtro un pochino sporco Cioè è robetta ragazzi Ci sono dietro Praticamente mi ispirano faccia Non sento nulla Però in dotazione Soprattutto quando lavorate con la resina Ci sono mascherine Che sono quelle praticamente Dei coronavirus chirurgiche E guanti Ragazzi La sicurezza prima di tutto Perché è roba cancerogena E tossica la resina Quindi occhio anche di non rovesciarla Da qualche parte Può magari toccarvi la faccia Quando fate questi lavori Guanti e mascherina Come ha fatto mia moglie appunto Lavorando di sopra Quindi odori non ce n'è Fumi nemmeno Qua giù nel suo palco Non ce n'abbiamo nemmeno una finestra Quindi non ce n'abbiamo nemmeno Uno sbocco d'aria Il primo è a due metri sotto In camera mia La finestra di camera Quindi non ha fatto puzzo Il rumore ne fa pochino pochino Perché è la ventolina dentro Più che altro che fa un po' di rumore Ragazzi Sembra di sentire Quando la playstation è accesa Cioè fa veramente E poi consuma poco Perché dovrebbe consumare Tipo 40 watt all'ora Qualcosa del genere Quindi la potete tranquillamente Tenere accesa Tenendo acceso anche magari Uno scaldabagno Un forno Qualcos'altro in casa Senza paura che vi salti la corrente E consuma veramente poco Forse la resina Costa di più Dei filamenti di plastica Costa un po' di più Però è anche vero Che ne andate a consumare poca Ragazzi La miniatura che avete visto Ha consumati 8 o 9 di millilitri Cioè in un litro Avanti ce ne fate Ce ne fate Un'infinitana Un esercito pieno Di queste miniature qui Quindi consuma poco È bellina È piccolina Soprattutto mi garba Anche lo schermettino davanti Scusate La porticina Che si apre Si alza Ed è piccolina La potete mettere Veramente sul mobile di camera Quindi Se le devo dare un voto Per quello Per come mi sono trovato E soprattutto Mi si è slogata la mandibola Quando ho visto la miniatura Come l'ha fatta Perché me l'aspettavo Bella Si lavora in resina Grazie al cavolo Ma non così Ragazzi 10 su 10 È veramente Paurosa Fatemi sapere cosa ne pensate Primo link in descrizione Per andarla ad acquistare Ringrazio ancora Anycubic Per avermi offerto Tutta quanta questa roba Ragazzi Vedrete Un mondo Di video Sul canale In più abbiamo già diverse idee Che vogliamo portare Sia per giochi da tavolo Che anche per un progetto nostro Lo vedete a breve Ciao ragazzi Alla prossima